Sono 107.122 nuovi casi di positività al Covid in tutta Italia registrati nell'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, con il dato relativo alla Sicilia che si attesta a 8.178 nuovi casi. Per quanto riguarda la provincia Nissena, sono 365 i pazienti in risultati positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domigiliare. 104 sono di Gela, 102 di Caltanissetta, 30 di San Cataldo, 29 di Mazzarino, 23 di Niscemi, 14 di Serra di Falco, 11 di Mussomeli, 10 di Delia, 9 di Riesi, 9 di Santa Caterina, 6 di Milena, 6 di Sommatino, 4 di Campofranco, 2 di Bonpensiere, 2 di Montedoro, 2 di Vallelunga, 1 di Sutera e 1 di Villalba. Ricoverati in degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta e 1 di Gela, mentre sono stati dimessi due pazienti di Caltanissetta, 1 di Niscemi e 1 di Riesi. Il dato dei guariti indica 97 pazienti di Gela, 87 di Caltanissetta, 24 di San Cataldo, 19 di Mazzarino, 18 di Niscemi, 13 di Mussomeli, 10 di Sommatino, 8 di Campofranco, 8 di Riesi, 7 di Vallelunga, 5 di Milena, 5 di Santa Caterina, 3 di Butera, 3 di Serra di Falco, 2 di Delia, 1 di Acquaviva, 1 di Marianopoli e 1 di Montedoro.